Salve pupufiere pupufiere, benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo video siamo su MotoGP 15 con l'episodio 16, siamo a Phillip Island in Australia, una delle mie piste preferite oggi ho fatto le prove libere e le qualifiche, le prove libere sono andate bene, sono arrivato sesto in prove libere e le qualifiche sono andate bene, parto ottavo e niente, vediamo un po' come va la gara, scende in pista parto ottavo e vediamo un po' come va la gara si spera in bene allora, prima dentro, gas a martello e via 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 partiti sono 6 giri e vediamo un po' come va la gara gas a martello, gas a martello gas a martello oliva nera, kent sono già primo sono già primo al primo giro, alla quarta curva più o meno, circa nuova sarà che questa sarà una delle gare migliori che ho fatto che ho fatto fino adesso bene, Filippo Island è un circuito veloce corto, veloce anche corto perché è corto come circuito c'è dietro oliva nera c'è dietro oliva nera oliva nera oliva nera non cadere, no, ti ho detto non cadere gli abdi lo esca di moto stava facendo una gara perfetta senza cadute sono cadute lì terzi vabbè, sul podi ci sono per lo meglio ma non mi accontenta la terza posizione a Filippo Island è una delle mie piste preferite voglio di più a Filippo Island voglio di più voglio il primo posto a Filippo Island oh ma oniva nera non ha di più sul dritto di vanera con la KTM Red Bull rispetto alla KTM Sky giro record pure bene bene giro record eh ciao Kent c'è dietro Kent o Clark Kent come preferito chiamatelo come volete oliva nera bastardo di oliva nera bastardo di oliva oliva nera incrociata incrociata oliva nera l'ha incrociata con il bello popofiero pazzesco no bastardo di oliva nera mi ha fatto cadere bastardo di oliva nera che mi ha fatto cadere bastardo di oliva nera gassamartello 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 su Kent toccatina leggera toccatina Kent sportellata oliva nera Kent tutte e due sono lì davanti a portare di mano a portato di mano sono lì signori siamo al terzo giro sono a portato di mano sono a portato di mano non facciamoli scappare non lasciamoli scappare non lasciamoli scappare dai 4 i raskets continuano a scambiare la quarta posizione ok gassamartello 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 dai full gas full gas full gas gassamartello 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 Ok 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 Dai, gas a martello, gas a martello, dai, 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 che siamo al quarto giro, quarto giro, dai. Mancano due giri alla fine, due giri alla fine, vai che riprendo Kent e Olivanira, Kent Olivanira, oioioi, oioioi, Kent è caduto, godo, godo, godo che Kent è caduto, manca solo Olivanira, speriamo che cade anche Olivanira, godo, non è stata colpa mia, avete visto tutti che non è stata colpa mia, è caduto da solo Olivanira, Kent è colpa mia, solo, non è stata colpa mia, ti studi, Olivanira, cate anche te, che ti so, sto guardando io, oioioioi, mannaggia, mannaggia, Kent è caduto, sì, e vai, Kent è caduto, Kent è caduto, godo, godo, godo che Kent è caduto, mischio a tanti punti, ed è primo nella classifica mondiale, e ha tanti punti, godo il caduto, godo, non si prende meno punti, perché se avrà settimo, prende meno punti, godo, dai, 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 gassamartello, 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 navarro, c'è il titolo navarro, il terzo posto, c'è Vasquez, o Vasca, dai, quinto giro, penultimo giro, manca un giro alla fine, manca un giro alla fine della gara, manca un giro alla fine della gara, dai, gassamartello, gassamartello, Siamo a due decimi di stacco, da oliva nera, due decimi di stacco da oliva nera, oi 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 oi, che è entrata, che è entrata, che è sorpassi su oliva nera, no, mannaggia, mannaggia, sono caduto con la curva, mannaggia, mannaggia, Se non cadevo questa curva, cazzo, se non cadevo, rimanevo primo, mannaggia, mannaggia, oi oi oi, oi oi, è combattuta, è combattuta sta gara, signora, è combattuta per il primo posto, gassamartello, 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 99.10, un giro di stacco, Occhissimo, oliva nera, Fai dall'acqua, fai dall'acqua popofiero, fai dall'acqua popofiero, fai dall'acqua popofiero, È iniziato il final up popofiero, dai, è iniziato il final up popofiero Non, non sono ammessi errore adesso al final up Non sono ammessi errore al final up Non sono ammessi errore al final up Bisogna fare un giro senza cadute Per fare l'up Un decimo di secondo 166 decimi di secondo 1.11.11.11.11.11.11.11.11.12.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11 Gas al martello Tocchi i piedi sul divano Tocchi i piedi sul divano Bruno Popofiero c'è Bruno Popofiero c'è E Bruno Popofiero vince Primo signori Partendo ottavo Primo Tab Faccio la tab Primo Che è entrato settimo Sì E andiamo Bene Il video può finire qui Se il video vi è piaciuto Nel video mi piace Commentate E soprattutto iscrivetevi E ci vediamo al prossimo video